Mi chiamo Marco Balesti, sono responsabile di produzione della mortadella di Villani. Aspetto che arriva il primo impasto e con la prima marnina metto in vuoto la macchina. Se la macchina non fosse in vuoto ci sarebbe il problema dei microforellini nell'impasto. Dopodiché, quando la macchina è in vuoto, inizio la fase di insacco. La vescica naturale viene lavata in acqua e aceto e sgrassata il giorno prima, in modo che venga pronta per la fase di insacco. La fase di insacco è una fase molto delicata per la riuscita della mortadella. La capacità dell'insaccatore è di far massaggiare bene la mortadella per far distribuire bene omogeneamente il lardello. La mortadella viene passata al legatore e viene legata in modo tradizionale, a corda continua e la corda viene intrecciata in modo che quando è appesa non si sleghi.